Ciao a tutti, sono coach Asteriadis dalla Grecia. Oggi parliamo della Open Motion Offense. Come sapete, quando parliamo di Motion Offense, parliamo di movimento continuo, che usiamo soprattutto con le categorie giovani. Negli ultimi vent'anni noi abbiamo insegnato a giocatori giovani dai 12 ai 16 anni, specialmente a livello più alto in nazionale greca e in squadra di club in Grecia. E così è come è iniziato, come ho sviluppato questo attacco e l'ho usato principalmente nella squadra nazionale e nei club con grande successo. E' iniziato tutto quando ho capito che dovevo cercare di aiutare i miei giovani giocatori a essere più creativi ed essere anche più efficaci nelle loro partite. E ho provato a capire quelli che fossero i loro bisogni. Quindi è iniziato così. Prima di tutto ho cercato di vedere come lavorassero gli allenatori sui ragazzi più giovani, come appunto lavorassero con le squadre. E ho visto che ci sono due categorie di allenatori. La prima categoria, di solito i giocatori più giovani, cerca di copiare dei giochi organizzati di leghe professionistiche, giochi organizzati per adulti come blocchi stagger, blocchi stack e tutto quello che si può vedere nell'Eurolega. E' quello che fanno i giocatori più grandi, più bravi. Ma cosa fanno loro? Cercano di muoversi lontano da canestro, usano tanti blocchi che uccidono la possibilità di muovere la palla e passarsela tanto. E invece sarebbe giusto partire da vicino a canestro per poi allontanarsi. Io ho pensato che non avessero bisogno di questo. Cosa 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 Grazie a tutti.